All'Upower Stadium inizia il viaggio di ritorno di Monza e Inter. Darmian, Parella, Pavard, ecco il cross Lautaro! Tocco di mano di Gagliardini. Calcio di rigore per l'Inter. Pachalanolu, spiazzato Sorrentino, cambia l'anno, non l'infallibilità dal dischetto di Cialanolu. 1-0 Inter. Devra è gran giocata per Mkhitaryan, c'è Di Marco, palla per lui, Lautaro! Come all'andata, come quasi in ogni partita, Lautaro Martinez. Colpani, colpo di testa, Pessina! Per il 2-1, Pessina! È fuori gioco, si resta 2-0. La posizione di Pessina, oltre bastone. Può andare Mkhitaryan. In area Turam, Barella, Turam con il tacco per Cialanolu! Doppietta del turco, l'altruismo di Marcus Turam, che apre un mondo a Cialanolu. Bastoni. Prepara il cross, Pavard! Sorrentino! Parata inverosimile. Gran colpo di testa, bellissima la parata di Sorrentino. Va Danimota. Contatto con Darmian. Calcio di rigore per il Monza. Questo è il tocco di Darmian. Darmian. Pessina! Spiazzato Sommer! Stavolta non sbaglia. Riscatta l'errore di Napoli. Il Monza torna in partita. Darmian. Bela idea per Fratesi. Contatto con Akpac Pro. Va Lautaro! Anche su rigore. Doppietta del Toro. Non angola molto. Diciottesimo gol in campione. Mkhitaryan. Turam controlla a seguire. Una finta sdraiato. Caldirola! Torna a segnare anche Tikus Turam. Dopo quasi un mese. 5-1 Inter.